Buongiorno a tutti, buongiorno Sara. Buongiorno Paolo. Ciao, sono contento di rivederti. Sara Pritchard non ha bisogno di presentazioni, si occupa di medicina tradizionale cinesi e di idwina da tanti anni ed è già stata ospite presso la sede di Milano di un seminario di ha molto molto apprezzato da tutti. Quest'anno ci presento un seminario dal titolo Le porte di trattamento del dolore. Con Sara ci siamo scambiate alcune mail su questo argomento e io però avevo bisogno di fare alcune domande rispetto alle cose che lei mi ha scritto. Ho pensato quindi di condividere queste domande, questo momento di domande che porrò a Sara con voi in modo che tutti possiate capire anche un po' lo spirito di questo seminario. Tu mi hai scritto che ti piacerebbe incoraggiarci a trovare il nostro stile yin di twina. Che cosa intendi con questo? Quindi sei interessato allo stile yin style di twina e magari perché lo differenziamo fra stile yin e stile yang di twina. Ciò che sembra succedere nel mondo del twina con il passare degli anni e in particolare nel Regno Unito, non so se anche da voi in Italia, ma sicuramente in Occidente. Cosa ho visto qua è in Canada, è complessivamente una forma molto young, è uno stile molto del nord, che è ottimo, ma può essere troppo rude e quindi non per tutti e non va bene per tutte le cose. Quindi lo stile yin di twina è basato su ricordare di far ritorno a un luogo di quiete, un luogo di presenza, un luogo che permetta a noi operatori di discendere attraverso gli strati da Wei Qi a Yin Qi per iniziare a penetrare. Ci serve un approccio Yin per raggiungere gli strati profondi di Yuan Qi. Per alcuni di noi è una sfida perché è calmo, richiede ripetizioni morbide e richiede pazienza. È come una meditazione e quindi diventa, dobbiamo dire che è davvero come il Qigong, lavorare con la persona in questo modo e ci permette di entrare in una situazione in cui persone che sono molto profondamente in deficit, in cui ci sono problemi cronici e in cui se proviamo qualcosa, anche uno stile moderato di twina, le potrebbe dispendere troppo, disperdere troppo. Quindi avere l'equilibrio dello yin per poter lavorare assieme a uno stile più yang ed esterno penso che sia essenziale. Io ti ringrazio Sara, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, ti ringrazio di come sei e di quanto contributo dai alla medicina cinese e al twina. Io ringrazio anche tutte le persone che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito. Le porte del trattamento del dolore si terrà a fine novembre a Milano. Tutte le informazioni su come iscriversi le trovate sul sito di ScuolaTau. Grazie ancora Sara, grazie a tutti. It's a pleasure, it's lovely to speak to you, Paolo. Ciao, grazie, un abbraccio, ci vediamo presto. Ciao!